Ciao a tutti ragazzi, buonasera, mi chiamo Javier, sono missionario redentorista spagnolo, sono 25 anni e da 5 anni fa che ci sono in congregazione, filmando questo video perché so che adesso vi trovate tutti insieme in adorazione in Belia e vorrei condividere con voi questa mia esperienza vocazionale, questa mia esperienza soprattutto di vita, per me è una gioia. Tranquilli perché sarò molto breve, soprattutto perché l'italiano non è la mia lingua e quindi non vorrei sbagliarmi troppo e sapete che chi troppo parla troppo sbaglia e quindi sarò molto breve. Semplicemente condividere con voi che per me la vocazione comincia con un'emozione forte che diventa sentimento e che poi si fa vita e si porta alla vita, alla vita insieme, alla vita condivisa. Noi, i missionari redentoristi, siamo quelli che siamo stati chiamati a portare l'abbondante redenzione ai più abbandonati. Questo è la chiave della nostra vocazione, questo è quello essenziale della nostra vocazione e quello che ci muove a tutti noi a donare la nostra vita e a uscire di noi per andare verso gli altri. E questo secondo me è molto bello perché non è soltanto una vocazione particolare, una vocazione dove io mi trovo a me stesso, ma trovo all'altro e trovando all'altro trovo a Cristo. Oggi siete riuniti con questa bella frase di ascoltare la propria melodia, ascoltare la tua melodia, cioè ascoltare il tuo sentimento, ascoltare la tua propria chiamata e non farsi portare per altre cose che ci può fare sbagliare. È una cosa difficile, non è una cosa facile, ma è una cosa che ci porta gioia e ci porta un stile di vita diverso agli altri. Ascoltare la propria melodia, la propria esperienza di vita, la tua melodia, il tuo sentimento. Questo, come dicevo, non è facile, però è molto bello e ci fa trovare la gioia, la speranza, la fede, la carità di quelli che non sanno, non conoscono a Cristo e noi, i missionari detentoristi e voi, i cristiani tutti, siamo chiamati a fare e siamo chiamati a vivere, a condividere, a uscire di noi per portare la parola di Dio agli altri. Vorrei pure condividere e dire se tra voi c'è qualcuno o qualcuna che può pensare cosa fare con la sua vita o può stare, può avere qualche dubbio su cosa fare, sta sentendo qualcosa, qualche emozione che non sa mettere a posto o sta in un momento fragile della sua vita, dirvi pure di non avere paura. Non avere paura di avere paura. Molte volte quelli che siamo chiamati a questo stile di vita abbiamo paure di tantissime cose, come dirlo alla famiglia, come dirlo agli amici, come fare per diventare prete religiosa, religioso e come sarà nella vita questa decisione che prendiamo. Non avere paura, perché avere paura è normale, quindi non avere paura di avere paura, non avere paura di avere i dubbi, non avere paura di essere umani, perché la paura, i dubbi, tutte queste cose brutte che a volte sentiamo tutti quanti noi, è una cosa normale, è una cosa propria di essere umani, è una cosa propria di ascoltare la nostra propria melodia, il nostro proprio sentimento. Semplicemente vorrei condividere con voi questa gioia di dire sì al Signore, di non avere paura di fare tantissime cose per il Signore e per gli altri uscire di noi, per darci agli altri e come diceva il Papa Giovanni Paolo II, scusatemi, non avere paura, aprite le porte a Cristo, anzi spalancate le porte a Cristo. Grazie, sappiate che dalla Spagna preghiamo per voi, siamo uniti nella preghiera, pregate voi anche per noi, soprattutto in questo brutto tempo della Covid-19, siamo insieme, siamo uniti nella preghiera e sappiate che non siete soli. Va bene? Grazie di cuore e un forte abbraccio a tutti. Arrivederci!